eccoci qui ciao raga buongiorno 7 del mattino adesso sono quasi le 8 stiamo finendo il nostro sopralluogo cosa vuol dire avere una guida che vi accompagna in montagna alle 9 abbiamo in programma un'escursione sono giornate di pioggia l'abbiamo detto l'avete visto pubblicato anche dei bellissimi video fatto dei temporali spettacolari temporali è meglio evitarli proprio per questo sopralluogo 7 del mattino fatto un giretto per il percorso non ci sono temporali ci sono due gocce che giusto giusto ci rinfrescano e ce le godiamo tutte quindi escursione confermata ho controllato anche un paio di punti che potevano essere un po a rischio con la pioggia è tutto posto ci vediamo le 9